FESTIVAL SHOW E già oggi siamo qui a Leone di Lonato in provincia di Brescia, altro grande centro commerciale che ospita anche il nostro tour per i casting, sì per ascoltare tra le più belle voci che poi verranno selezionate e arrivare ovviamente all'ambito premio che è quello del palcoscenico di Festival Show. Nella giuria di oggi la Presidente sarà Luisa Corna, voi special guest avremo i sonora qui a Leone di Lonato, poi ci sarò anch'io dunque a sentire e valutare tutte queste belle voci. Ci sentiamo dopo. Prima music to die Prima music to die Prima music to die Oh ciao Luisa, benvenuta! Sei bellissima! Ciao Luisa Corna, fate il benvenuto con un forte applauso a te! Un saluto Luisa, grazie per noi di Sonora! Ciao, 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 benvenuti con un forte applauso a te! Un saluto Luisa, grazie per noi! Poi, oggi qui a Lonato in questa seconda tappa di Festival Show Casting di Sonora con Diego e Luca. Senti Diego, ti chiedo, voi che conoscete bene il Festival Show Perché dovremmo invogliare i giovani a partecipare a questi casting? Per arrivare a dove? Cosa è il Festival Show? Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un parmontiale questo festival show Dunque abbiamo potuto vedere negli anni che non è perché siamo qua e vogliamo fare i film Ma sicuramente il Festival è organizzato molto bene Poi tra l'altro c'è l'orchestra che suona dal vivo Dunque è una cosa in più, pensiamo Anche perché appunto la cosa più importante è che regna la musica in questo Festival Dunque ai giovani do comunque l'invito di comunque provare a fare questi cast Perché salire su quel palco è sicuramente una bellissima esperienza Esperienza magistrale, assolutamente Senti Luca, ma ci sono degli ingredienti di base per avere successo? Voi ne avete avuto tantissimo, come è che funziona? Beh, ingredienti di base non ce ne sono Diciamo che c'è una tanta passione perseverante Poi bisogna sempre estendere che cos'è il successo Non è solo arrivare a fare concerti negli stadi o avere un buco di soldi anche perché non se ne fanno più E' una musica, diciamo che il vero obiettivo per chi vuole sta prendere questa carriera E' vivere e facendo una grande passione per cui ha sempre lottato Perciò il consiglio che possiamo dare è comunque di perseverare sempre Signori, i sonora, i sonora con noi live Martina sta con noi, allora eccoci raggiungono Salve Cascamilla Vieni Luisa, carissima Luisa, carissima Luisa Eccoci qua Allora a te insomma l'onore di salutare il pubblico Grazie per essere stata ancora con noi Presidente di Giulia Grazie a voi di essere stati qui con noi Veramente, grazie dell'accoglienza Facciamo un applauso a chi ci ospita naturalmente Il leone di Ronaldo Shopping State Grazie direttore Grazie davvero a fare un applauso A tutto lo staff di questa nostra giornata insieme Grazie a tutti Grazie a tutti